I piccoli zutti al sud perché innanzitutto abbiamo delle condizioni climatiche favorevoli alla loro produzione in controstagione, ovvero riusciamo ad anticipare e a posticipare le produzioni rispetto ai tipici areali di produzione piemontesi. Abbiamo individuato in particolar modo due zone che sono quella di Brindisi e quella di Crotone. Bisogna garantire la presenza in questi areali, in quanto sono dei bravissimi agricoltori ma che hanno esperienze agricole completamente diverse rispetto alle culture di forte innovazione tecnologica che sono quelle che proponiamo. Quindi sicuramente presenziale del territorio e dando supporto al continuo all'azienda agricola.